Sul fronte esquisitamente tecnico per gli indagati di linea d'ombra rinchiosi nel carcere di Forni non è previsto alcun interrogatorio di garanzia fatto salvo per i colloqui ravvicinati ed intensi tra gli avvocati e di loro assistiti. Tutto in attesa del deposito, delle motivazioni che sono state alla base delle decisioni del riesame. Tra i legali spicca la posizione del difensore, del grande accusatore dell'inchiesta, quell'americo panico che continua a ribadire di non aver udito alcun complotto e che Telenuova ha ascoltato ieri. Nessuna intenzione di innescare quell'effetto domino che è stato solo la naturale conseguenza dell'ampliamento degli accertamenti da parte della Procura della Repubblica. L'intenzione di panico con le sue dichiarazioni, lo dice chiaramente il suo legale, era solo quella di inchiodare il sindaco. Alle sue responsabilità sono stati poi gli inquirenti, forze di polizia e magistratura a tirare dentro figure finite sotto inchiesta, ovviamente tutte le altre. Secondo alcuni però il suo assistito non è credibile perché aveva rapporti politici come dire molto trasversali. Sarebbe alcuni degli avvocati di Gambino hanno parlato addirittura di complotto? No, questo è assolutamente fuori luogo, credo. Panico non aveva interesse, non ha interesse a complottare con chi che sia, ha semplicemente raccontato la verità e ha esposto i fatti così come si sono svolti. Quindi francamente non riesco a capire perché i difensori, i colleghi e i difensori degli imputati, gli indagati facciano questa considerazione. Tutto qui. L'ultima domanda, perché non vi siete costituiti parte civile? Solo sono chiesti in molti. Non ci siamo costituiti parte civile, innanzitutto perché il termine per la costituzione parte civile è quello dell'apertura del dibattimento. Quindi siamo ancora in termini per costituire di giudizio di parte civile. Poi fondamentalmente perché il signor Gambino, che è il personaggio che è stato denunciato dal mio assistito, non ha partecipato al giudizio immediato. Faremo le nostre valutazioni del caso, verificheremo prima della prima udienza dibattimentale se è o meno opportuno il costituzione di parte civile.